Partita tra ragazzi partenopei ed FC Diplomati, il punteggio vede in vantaggio i ragazzi della FC Diplomati dopo che proprio i ragazzi partenopei si erano portati in vantaggio. Il punteggio è di momentaneamente 3-1 per i ragazzi in maglia d'ultima al gollo di De Nigris. Risposta a sezione, la traversa adesso di De Nigris, penso il quarto legno circa dei ragazzi partenopei, il secondo personale di De Nigris, il terzo legno totale, visto che due di De Nigris e uno di Pigliataro, ancora una traversa di De Nigris, dicevamo proprio Pablo, l'autore del gol del vantaggio dei partenopei, raggiunti poi dalle perfette realizzazioni di Piccirillo, adesso qui ci ha provato ancora De Nigris, sicuramente più in palla dei suoi, ma non è riuscito a realizzare il gol. La palla adesso si perde sul fondo, la rimessa laterale a favore dei ragazzi partenopei, la va a battere frezza, lunga a cercare De Nigris, la mette giù, Pigliataro viene fermato al momento il tiro, tira a Pignataro però che prende il pallone, la che poi viene spazzata via, prova il capitano dei FC Diplomati, ma si fa a fermare tirando la magna a Pignataro. C'è un calcio di punizione a favore dei Diplomati. Un poco di magagne, seguiamo questo calcio di punizione, poi interromperemo il collegamento, andrà a battere il capitano Gibelli, la conclusione impatta contro Vitiello, ancora Giberti la mette in mezzo, il liscio clamoroso del numero 8, interrompiamo qui il nostro collegamento con il punto di 3 a 1.